Ah, è per voi San Valentino. Eh, allora. È una bella festa anche perché mi piace fargli i regali, perché mi piace vederla felice, perché mi piaceva stare i fiori e quindi è una bella scusa per fargli un bel mazzo di fiori. Sì, più o meno sia. Alla fine non importa più che altro il regalo, guarda più che altro che un modo per stare insieme. Che bella cosa. Grazie.